Perché fare sport? Perché lo sport è una scelta di vita. Tu da piccolo sceglierai per tutta la tua vita di fare sport e quindi sceglierai di seguire delle regole elementari corrette e di non fumare, di rispettare gli altri con atteggiamenti corretti nella vita e nel lavoro. Questo è lo sport ed è per questo che lo sport ha delle capacità educative enormi che le vecchie professoresse della scuola che non hanno mai fatto sport non possono capire. Lo sport fa bene, quindi forma un cittadino migliore. La medicina sportiva è la medicina dell'uomo sano, nessuno farà riferimento alla medicina sportiva. E io purtroppo faccio due cose nella mia vita, due cose nella mia vita sbagliate. Lo sportivo, e quindi nessuno vuole spendere soldi in prevenzione, e il geologo, nessuno vuole spendere soldi nel geologo in prevenzione. Nella mia vita quindi ho sbagliato tutto.